Dobbiamo pensare non come individui, ma come specie. Dobbiamo affrontare la realtà del viaggio interstellare. Tornerò. La squadra di Pesaro. Blocchi in sequenza, si va dal Sontanne, si alza per la tripla! Assegno il Sontanne! Entra la tripla, da 2 per il pareggio, da 3 per la vittoria. Tripla è stata e tripla è entrata. Finale pazzesco all'Adriatic Arena. Vince la WL Pesaro. Il finale più incredibile di questa giornata. C'è ancora vita per la salvezza sul campo. Turner contro Hardy, anche con la mano di King in faccia. Vince Pesaro. Che prodezza. Screpitoso. Tutti da Turner, tutti in campo. Come se oggi fosse stata conquistata la salvezza. Pubblico impazzito all'Adriatic Arena. Letteralmente impazzito. Il finale più bello non poteva esserci. Il finale più bello non poteva esserci. Occio Telleed. Si, non. Ciel per metti. Ec殺i La villa per metti. Lo ec dei fanno t לוillass. Il finale più bello non poteva esserci.